come creare un funnel di vendita con chatbot potenziato dall'intelligenza artificiale chat GPT benvenuti nel mio canale oggi vi mostrerò come creare un funnel di vendita altamente efficace utilizzando chatbot potenziati dall'intelligenza artificiale questa combinazione potente vi aiuterà a guidare i vostri potenziali clienti attraverso un processo di vendita strutturato e coinvolgente pronti iniziamo il primo passo per creare un funnel di vendita efficace è identificare il percorso del cliente utilizzando un chatbot potenziato dall'intelligenza artificiale potete creare una serie di domande e risposte che guidino i vostri potenziali clienti attraverso diverse fasi del processo di vendita come la consapevolezza l'interesse la considerazione e l'azione questo vi permetterà di offrire un'esperienza personalizzata e coinvolgente per ogni utente passo 2 creare un chatbot interattivo utilizzando strumenti di creazione di chatbot potenziati dall'intelligenza artificiale come chat GPT potete creare un chatbot altamente interattivo e personalizzato chat GPT è un potente modello di intelligenza artificiale in grado di comprendere generare risposte coerenti e pertinenti potete inserire domande risposte predefinite e sfruttare la potenza dell'intelligenza artificiale per rispondere alle domande dei potenziali clienti in modo rapido ed efficace migliorando l'esperienza complessiva di navigazione e acquisto passo 3 segmentare e personalizzare un aspetto cruciale nella creazione di un funnel di vendita con chatbot e la segmentazione e personalizzazione utilizzando i dati dei vostri potenziali clienti potete suddividerli in gruppi specifici ed inviare i loro messaggi personalizzati basati sui loro interessi comportamenti e preferenze con chat GPT potete anche generare risposte personalizzate utilizzando l'intelligenza artificiale rendendo l'esperienza di acquisto più rilevante e coinvolgente passo 4 monitorare e ottimizzare una volta che avete implementato il vostro funnel di vendita con chatbot potenziato dall'intelligenza artificiale è fondamentale monitorare e ottimizzare le prestazioni utilizzate gli strumenti di analisi dei dati per misurare il tasso di conversione l'engagement degli utenti e altre metriche chiave questo vi permetterà di identificare aree di miglioramento e apportare le necessarie ottimizzazioni per massimizzare l'efficacia del vostro funnel di vendita conclusioni creare un funnel di vendita con chatbot potenziato dall'intelligenza artificiale può trasformare la vostra strategia di vendita sfruttando il potere dell'intelligenza artificiale con chat GPT potete offrire esperienze personalizzate guidare potenziali clienti attraverso il processo di vendita e aumentare le vostre conversioni spero che questi consigli vi siano stati utili se avete domande lasciatele nei commenti qui sotto ci vediamo al prossimo video a aspetta un attimo se sei interessato al marketing ti consiglio di dare un'occhiata su amazon al libro il massimo esperto di marketing un racconto istruttivo che insegna i fondamentali del marketing grazie per l'attenzione iscriviti al canale e al prossimo video ciao 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 ciao